La cooperativa Mimosa ha festeggiato oggi il suo compleanno, con una cerimonia svoltasi alla Rocca. Nel 1980 la cooperativa è nata grazie a 12 donne ex dipendenti di Appia, azienda tessile storica di Arco, che chiuse improvvisamente i battenti, lasciando senza lavoro più di 100 lavoratrici. Alla cerimonia, con il vicepresidente Daniela Zanella e il consigliere Lucio Matteotti, erano presenti l'assessore Mellarini, il direttore della cooperazione trentina Carlo Dallasega e l'assessore comunale Zanoni. Le socie fondatrici presenti e premiate sono Giuditta Stagnoli, Giovanna Morgan, Francesca Tosto, Marina Bonomi, Donatella Sega, Idiglia Buffa. Non hanno potuto presenziare alla cerimonia, ma sono state comunque ricordate Rosetta Faccio, Maria Grazia Prandi, Cherie Kramer e Fausta Masier. Un ricordo è stato fatto per le due socie che sono venute a mancare, Rosetta Morgan e Emilia Dallarosa. L'attività di Mimosa si concentra in svariati settori, anche se storicamente si occupava solamente di pulizie civili. Attualmente la cooperativa conta 50 soci e 250 dipendenti a tempo indeterminato nei vari settori, con picchi di 350 raggiunti con le stagionalità. Il bilancio 2014 vede un fatturato che si aggira intorno ai 7 milioni e mezzo di euro, in aumento rispetto al 2013.